Ciao a tutti, questo video fa parte di una collaborazione a 5. Abbiamo deciso di realizzare dei make up in cui potessimo partire dalle bellissime ragazze vampire ritratte dall'illustratrice spagnola Victoria Frances e trasfigurandole, tramutandole in regine della neve. Siamo ragazze di neve e sangue che vivono in una realtà gotica e romantica, ricordiamo un po' Anne Rice e un po' Edgar Allan Poe. Siamo algide ma tristi e malinconiche, come l'inverno che con la sua coltre copre ogni cosa, anche i boschi galiziani. Ora voglio spendere qualche parola riguardo le mie colleghe. Innanzitutto Daisy Auri. Daisy è una ragazza dolce, ma con la forza di un artista. Sul suo canale troverete spesso anche le opere del suo ragazzo, Auri. Loro sono una bellissima copia di artisti, belli dentro e belli fuori. Princess Aurora 411. Lei è in grado di riprodurre i quadri sul suo viso, quasi che fosse una tela. Ho visto ben poche persone capaci di fare questa magia. E se il make-up a volte può abbracciare l'arte, questo è un connubio che avviene spesso proprio sul suo canale. Maria Grazia Mua. Beh, lei è un fenomeno della trasformazione e del face painting. La sua perfezione ti porta a chiederti che cosa fa qui su YouTube. Hollywood gli ha forse dato i natali. Loro non lo sanno, ma con lei risparmierebbero sugli effetti speciali. Infine, non certo per importanza, Stella Polare Girl. Lei è una persona che impara molto in fretta, sono convinta che possa fare tutto quello che vuole. Sul suo canale troverete make-up per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Lei è un'amica speciale e condividiamo molte passioni. Spero di non essermi dilungata troppo, ma se ancora non conoscete queste fanciulle dovete rimediare subito. Magari vi chiederete, cosa le spinge a collaborare con me? Forse sono pazze. Però non diteglielo, lasciatele fare. Ora se vi interessa seguite il tutorial. Ciao! 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...